Ma il filmato che introduce l'inizio di questa puntata è assolutamente particolare. Pensate un francese, si chiama Don Abre, inventa un modo di vita, si chiama combat vital. Pensate si allena buttandosi da un elicottero nelle acque gelate tra i ghiacci della Groenlandia. Il suo nome è Don Abre, 40 anni, francese. Ha scelto l'avventura come risposta esistenziale alla vita. Si è allenato per tre mesi seguendo il metodo yoga prima di raggiungere Jacobson in Groenlandia, dove nello splendido e gelido mare costellato da iceberg rischierà la sua vita per un incredibile esploat. Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.